Ciao. I servizi di marketing di AMI sono pensati per molti, ma non per tutti. Chi si rivolge ad AMI vuole entrare nel club della qualità accessibile sul web. Sulla nostra piattaforma proprietaria avrai a fianco un'altra realtà imprenditoriale o una realtà professionale che propone nel tuo stesso settore o in un settore molto differente da quello in cui operi. Qualità accessibile, cercando di essere inclusiva. Valutate le nostre proposte e per qualsiasi domanda non esitate a contattarci. Grazie e a presto.